Regione Toscana, il Consiglio regionale. Comunicazione della Giunta nella Sala del Consiglio regionale sui fondi europei relativi alla prossima programmazione 2021-2027. Le risorse che arrivano in Toscana dall'Europa nei prossimi sette anni saranno complessivamente 2,3 miliardi di euro, risorse direttamente gestite dalla Toscana. Gli stanziamenti arrivano per 1 miliardo e 229 milioni dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale, il FESR, 1 miliardo e 83 milioni dal Fondo sociale europeo, l'FSE, e 143 milioni di euro da un altro stanziamento dell'Europa, il programma europeo Italia-Francia-Marittimo. È stato il Presidente della Regione, Eugenio Gianni, a dare comunicazione al Consiglio regionale, aprendo il confronto del Consiglio su questo importante tema. Ritengo che quando si porta lo stanziamento di fondi europei di un terzo superiore a quello che erano i fondi europei nel 2014-2020, e per il 2021-2027 noi abbiamo a disposizione sostanzialmente 2 miliardi e 300 milioni, più quelli agricoli 3 miliardi e 3, più ambizioso di così i consiglieri regionali, il Consiglio regionale, chi possono avere? Probabilmente Galli fa un ragionamento da esponente dell'opposizione, quindi l'esponente dell'opposizione deve sempre trovare qualcosa, ma io ritengo che obiettivamente chi guarda le vicende della politica e si rende conto che il Presidente Eugenio Gianni arriva con una contrattazione fatta duramente, con costanza, per vicacia, sia a Roma sia a Bruxelles, e rispetto ai fondi europei 21-27 noi abbiamo a disposizione sui 4 fondi 3 miliardi e 3, insomma ritengo che sia stato un grande successo. È evidente che si tratta di 4 fondi, e quindi naturalmente in primo luogo quello più importante, il FESRE, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. In questo caso noi abbiamo davvero nel miliardo e 2 del FESRE tutte le condizioni per poter operare, come in rescita, diciamo così, la voce divisa dello stanziamento, un'Europa più intelligente, un'Europa più verde, un'Europa più connessa, un'Europa più innovativa. E in questo caso noi ora definiremo bene quelli che sono i progetti, ma abbiamo rispetto al Recovery Fund la certezza che queste sono le quote per le regioni, e quindi ce le gestiamo in regione. Sul FESRE noi puntiamo molto sui fondi per lo sviluppo, l'investimento, l'adeguamento delle imprese, e devo dire che pioveranno sulle imprese in Toscana più di 500 milioni in questi sette anni. Contemporaneamente puntiamo molto sull'altro, il secondo fondo, il Fondo Sociale Europeo, per arrivare a quell'obiettivo che io mi prefiguro, fra un anno o due, di una bella quantità di risorse per garantire alle famiglie che hanno 30, massimo 40 mila euro di reddito annuo, la possibilità dell'asilo gratis per i loro bambini, che vi è in questo Fondo Sociale Europeo tante risorse per quello che sono i fondi per l'occupazione, le politiche attive del lavoro. Devo dire che poi, su quello che riguarda i fondi europei, noi metteremo e giocheremo molto nell'infrastrutturazione, soldi per la tramvia, per le piste ciclabili, per mezzi ecologici, e vi sarà quel respiro che consente, anche da un punto di vista di investimenti infrastrutturali per l'innovazione, di avere tante risorse per poter consentire alla pubblica amministrazione di rinnovare quelle che sono le forme di rapporto con il cittadino, proprio puntando sulla infrastrutturazione digitale. Ma è pronto, intanto sono arrivati tanti soldi che dalla comunicazione del Presidente andranno a sostegno. Io credo che è vero, è giusto che si debba sostenere le imprese, le aziende, è nostro dovere, ma è anche nostro dovere indicare dove la Toscana vuole arrivare. Perché non basta, secondo il mio punto di vista, dare il sostegno alle aziende se poi dopo non investiamo nelle grandi infrastrutture che permettono alla Toscana di tornare ad essere organica. Adesso abbiamo una macroarea che è quella che viaggia intorno all'Arno e abbiamo un'altra area importantissima da sviluppare che è quella della costa e che non è assolutamente presa in considerazione. Abbiamo dei porti, aeroporti, interporti che devono essere collegati alla macroarea di Firenze e poi dopo partire e andare verso il nord dell'Italia e verso il centro dell'Europa dove c'è la vera economia. Ecco, noi in questo momento l'intervento che è stato fatto dal Presidente è stato un intervento per continuare a galleggiare. La Toscana non ha bisogno di galleggiare, la Toscana ha talmente tante risorse che ha bisogno di tornare ad elevarsi a regione guida perché questo è quello che noi abbiamo all'interno della Toscana e questo deve essere il messaggio, un messaggio propositivo e non un messaggio esclusivo di sostegno che serve ma serve per poi dopo dare un indirizzo a tutto quello che deve essere l'economia della Toscana. C'è intanto un dato di fatto positivo che mi fa piacere sottolineare. Evidentemente chi ha preceduto questa giunta o non era così tanto capace di fare le trattative in sede europea o in sede di Assemblea Stato-Regioni oppure non era in grado di spendere in maniera opportuna i soldi visto che il primo dato che ci è stato riferito è che la Toscana per i prossimi sette anni ha preso un terzo in più di fondi dall'Europa rispetto agli ultimi sette anni. Quindi il grande governatore Rossi che si vantava di avere questa grande capacità di concentrare fondi sulla Toscana ne prendeva un terzo in meno di quanto hanno preso adesso la nuova giunta. Quindi questo è sicuramente un dato positivo. Poi ci sono tutti i dati negativi e i dati negativi sono il fatto che la regione toscana è ancora lontana anni luce dalle regioni virtuose del nord sotto tanti aspetti. La Toscana ne dedico una su tutti. Si parla tanto di mobilità sostenibile. La Toscana ha l'8% di colonnine di ricarica elettrica diffuse sul territorio nazionale. La Lombardia ne ha il doppio. Riteniamo che i fondi comunitari siano la forza del nostro agire. Le risorse comunitarie certe queste sono sicure. Dobbiamo programmarle, dobbiamo creare sviluppo, lavoro, consentire ai territori periferici di avere nuove opportunità, consentire alle grandi città di diventare città di carattere europeo, ma soprattutto tenere fede ai nostri impegni rispetto ai giovani, rispetto agli anziani, rispetto al sociale, rispetto agli impegni culturali. Dobbiamo fare una Toscana che anche nella svolta ambientale sia protagonista a livello europeo, che con queste risorse faccia uno scatto in avanti. Richiamo di queste ore anche della richiesta dei giovani di avere più ambiente, una Toscana più innovativa. E poi soprattutto infrastrutture e lavoro, credo che siano i cardini dell'allocazione di queste risorse. Quindi noi ci batteremo in questi anni per allocare queste risorse nel modo più congruo e utile per la Toscana. Abbiamo ascoltato la grande narrazione del Presidente Gianni in aula su un documento che ci è stato presentato la settimana scorsa, un documento che sostanzialmente fa una narrazione molto curiosa della situazione pre-pandemica e soprattutto pre-pandemica in Toscana e su quello sostanzialmente che deve essere il modo superandi per investire nel momento in cui andiamo a ripartire tutti assieme. Ora, torneremo in aula a metà di ottobre e Fratelli d'Italia ha intenzione sostanzialmente di rispondere a questo papier presentato oggi dal Presidente Gianni con proposte sostanzialmente costruttive capaci di portare un contributo a una narrazione che rimane sostanzialmente fino ad oggi molto generica e sui generis. Confronto tra i gruppi consigliari di maggioranza e opposizione in Consiglio regionale sulla ripartenza delle scuole tra regole, trasporti, quarantena e tramponi salivari che sono stati proprio approvati dal Consiglio nei mesi scorsi. Io sono d'accordo c'è un atto nostro ormai approvato dal Consiglio che chiede anche l'utilizzo dei tamponi salivari vedo che qualche scuola parte credo dovrebbe partire tutta la Toscana dovremmo semplificare la permanenza delle scuole e dei ragazzi bisogna arrivare a fare in modo che la didattica in presenza non si interrompa mai e quindi anche le quarantene devono essere più corte possibile più circoscritte non bisogna mai fermare la didattica quindi io sono favorevole per quarantene mirate non per quarantene di classi o di istituti sempre presenza sempre alleggerire il peso sui ragazzi per arrivare poi a un certo punto a rendere strutturali i tamponi salivari e quando possibile anche con congruo distanziamento consentire ai ragazzi di non utilizzare la mascherina Allora diciamo che in Italia questa fase è piuttosto preoccupante perché a due settimane dalla ripresa della scuola sono molte le quarantene negli istituti scolastici in Toscana non siamo in una condizione così preoccupante diciamo ecco anche se i numeri chiaramente stanno cominciando ad attirare l'attenzione il tema più che altro è quello delle modalità di applicazione della quarantena che la legge prevede perché al momento ancora nel caso di un alunno positivo si mette in quarantena obbligata tutta la classe spesso senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati o con una distinzione di pochi giorni sette giorni in un caso dieci giorni nell'altro si stanno studiando correttivi a questo dispositivo uno dei più diciamo promossi è quello della cosiddetta quarantena aereo che prevede la messa in quarantena soltanto di coloro che in base a una individuazione più o meno attendibile dei flussi d'aria negli ambienti isolerebbe soltanto i contatti strettissimi i compagni di banco e le persone più vicine all'alunno in questione nel caso fosse positivo rimane chiaramente un forte dubbio per quanto riguarda i tempi di pausa perché in quel caso gli alunni si muovono vanno nei corridoi e quindi questo complicherebbe la valutazione e il tema degli insegnanti perché gli insegnanti vanno in più classi spesso e quindi in caso di attualmente in caso di positività di un insegnante si mettono addirittura in quarantena anche fino a nove classi per insegnante nel caso degli insegnanti di educazione fisica nella diversa modalità si potrebbe forse intervenire in modo più chirurgico la tensione è quella di alleggerire il peso delle quarantene per scongiurare l'ipotesi di un ritorno alla DAD che è invece lo spettro che tutti vorrebbero evitare e che invece se le cose continuassero con questa modalità diventa inevitabilmente un orizzonte più probabile perché mettendo in quarantena classi intere e insegnanti che hanno più classi diventa necessario poi provvedere a una didattica in forme diverse Per i trasporti so per riportato da persone che i treni sono piuttosto affollati per i pullman penso che i pullman messi in più a disposizione abbiano in parte alleggerito la problematica Per quanto riguarda i contagi leggivamo stamani 3.900 alunni contagiati questo vuol dire troppe classi in DAD io credo che nelle classi dove il distanziamento c'è non occorra mettere tutta la classe se c'è un caso positivo bisognerebbe forse mettere i compagni vicini non lo so perché i ragazzini stanno con le mascherine in una classe dove dico se la distanza è quella conforme non c'è bisogno di mettere tutti altrimenti anche l'insegnante anche il collegio dei docenti perché l'insegnante va nel collegio dei docenti e quindi si va a finire tutta la scuola bisogna trovare qualcos'altro Le soluzioni di soluzioni improvvisate su questa pandemia le abbiamo viste talmente tante che ormai non ci meravigliamo di niente abbiamo visto i distanziamenti passare da due metri a un metro passare sui treni regionali non ci vuole il Green Pass si può stare tutti ammassati ma sui Frecciarossa dove i posti sono prenotati e si è già distanziati dagli altri invece ci vuole il Green Pass quindi di provvedimenti di ogni genere e tipo quindi il discorso quarantena light quarantena normale il problema è un altro il problema è che in un anno non è stato fatto assolutamente niente per la scuola non è stato fatto niente di quello che era stato promesso per la scuola se non provvedimenti inutili come quello di diminuire da due metri a un metro il distanziamento tra i banchi e la cattedra come se quest'anno il Covid fosse stanco non riuscisse più a saltare di due metri ora salta solo di uno quindi credo che rientri in questi provvedimenti senza spiegazione l'unica novità per fortuna e a questa sono felice che finalmente sia arrivata è quella dei tamponi salivari c'è dei test salivari perché comunque almeno chi ha necessità di utilizzare questo strumento non deve ricorrere all'invasivo tampone oreo faringeo Regione Toscana Il Consiglio Regionale